Il campione mondiale è coperto, il campione d'Europa è coperto e all'aperto. Ultima 2.28 per Tamberi. Il secondo 2.28 può aver dato fiducia al ragazzo marchigiano. Ehi, ma che bello questo! È vero che l'asticella vibra ancora, ma per... Ma la parte più alta della parabola era amplissimamente sopra i 2.28. Sorride anche il capo dello Stato, amplissimamente, era ancora toccata con i talloni. E questo è proprio il momento del malicamento in cui deve lavorare con il cosiddetto, parliamo italiano, qualcuno dice timing, ma anche tempo sull'asticella. No, più che altro il retrocoscia, però il punto più alto della parabola era altissimo.